buongiorno a tutti grazie per l'invito da della regione toscana ci fa molto piacere essere qua e ringrazio ovviamente i nostri speaker poi avremo modo di presentarli uno a uno nel nel modo corretto e io volevo solo fare una piccola introduzione e spiegare il perché di questo convegno allora il titolo è abbastanza credo chiaro si parla di nuovi progetti si parla di ospitalità ed investimenti il il mercato è io uso qualche slide poche però secondo me anche abbastanza significative eh vorremmo focalizzarci un po' sul mercato immobiliare quindi parliamo di real estate e in particolare quello della regione toscana poi vi faccio vedere alcuni numeri poi ovviamente questo è un estratto di una ricerca che eh da un un quadro molto importante di quello che è il mercato immobiliare in Italia diviso per regione quindi il caso della regione toscana poi la la toscana l'abbiamo divisa anche per cluster in questo caso abbiamo il cluster del mare abbiamo quello delle città stiamo elaborando quello della della campagna della country e su quell'elemento lì immagino che dopo con Andrea vedremo anche dei dati molto interessanti in particolare sul discorso country qua cosa facciamo vedere facciamo vedere quello che è il patrimonio alberghiero diviso per numero di camere numero esercizi e dimensione media cominciamo a vedere qualche numero per parlare un po' di cifre questo è il dato che è relativo al mare il mare è caratterizzato ovviamente da delle strutture non particolarmente grandi a livello di dimensione media scusate magari i numeri però sono abbastanza credo leggibili non so vediamo il caso di esempio di forte dei marmi con ehm sia sulle la parte tre quattro e cinque stelle i dati sono relativi a questo segmento tre quattro e cinque stelle quindi non vengono imprese in considerazione altri elementi e qua c'è un dato medio ovviamente di quelli che sono i valori espressi per camera quindi se vedete per quanto riguarda il mare tre stelle ottantottomila euro a camera parliamo di valori immobiliari il quattro stelle siamo sui centocinquantasei e un cinque stelle dei valori molto importanti considerate che anche il numero di strutture presenti e cinque stelle soprattutto sul mare è abbastanza limitato e questo probabilmente da anche una motivazione di questo valore molto alto quindi insomma la logica di domanda offerta vediamo invece la parte legata alla città qua abbiamo messo tutte le città eh diciamo chiaramente quelle più significative eh all'interno del nostro report e ovviamente in Toscana la 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 fa da padrone Firenze. Firenze eh è e continua ad essere oggetto di forte interesse da parte di gruppi alberghieri sia nazionali che internazionali leggevo proprio ieri la presenza di nuovi brand che stanno arrivando sul mercato tenete conto che tanto per darvi un'idea di quanto sia importante poi l'elemento brand su Firenze siamo su dei valori che si avvicinano al cinquanta per cento quindi vuol dire cinquanta per cento del numero delle camere su Firenze sono sotto un brand che può essere un brand domestico internazionale questo fa capire il forte appealing di questa eh di questa realtà anche qua i dati divisi per diciamo camera quindi quanto vale un tre stelle quanto vale un quattro stelle quanto vale un cinque stelle ripeto questi sono sempre dei valori medi sul totale delle città quindi chiaramente sono dei valori diversi da città città e quindi sono cose sulle quali si può entrare poi magari più uno specifico un'altra immagine questa per cominciare a entrare anche un po' nel nostro nei nostri discorsi che fa vedere quanto eh diciamo c'è fermento sulla sulla destinazione della Toscana e qua ci sono raggruppati un po' tutti quelli che sono i nuovi ehm riqualificazioni, le nuove aperture, i progetti in pipeline quindi vuol dire non ancora aperti ma in fase di eh in fase di apertura e qua possiamo vedere sicuramente tante tante situazioni che un po' caratterizzano il il mercato dicevo una forte concentrazione della città sì ma non solo e la città una forte concentrazione sia di quelli che sono dei prodotti eh nuovi prodotti lifestyle mi viene in mente ieri sono andato a visitare uno di questi alberghi aperti quest'anno il twenty five hours quindi un un concetto un po' particolare soprattutto per la piazza di Firenze che anche nuove aperture legate molto al mondo del lusso quindi eh cinque stelle questi sono poi i trend forti che stiamo vedendo ma anche dei prodotti eh un po' diversi mi viene in mente dello student che oggi si chiama social lab quindi un taglio un po' diverso quindi eh student hotel mi viene in mente la parte I.O. con gli ostelli quindi un'offerta che va via via diversificandosi e eh questo secondo me caratterizza molto la città di Firenze invece per quanto riguarda la parte più legata al discorso della quella che noi chiamiamo la 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 country la diciamo la parte diciamo un po' fuori ecco io ho ripreso alcune eh situazioni sicuramente molto significative che si stanno un po' facendo sul mercato una di questa è una nuova apertura eh Villa Camerata con Baccarato un'altra è quella di Lefei anche questa su Montalcino quindi focus molto forte sulla parte sulla parte wellness e poi una situazione che eh abbiamo seguito seguiamo a diverso tempo che è Artimino che ha cambiato proprio recentemente la gestione con l'entrata di un gruppo internazionale spagnolo mediano della fattispecie ecco diciamo che questi sono un po' degli spunti per cominciare a parlare del tema di oggi qua inizio a coinvolgere Andrea Andrea Delfini Andrea Delfini è CEO e founder di Blasness adesso magari possiamo passare già anche alla sua alla sua presentazione e la domanda che ti faccio Andrea e poi ti cedo ovviamente il microfono è quella di capire come il mercato si sta muovendo quali sono chiaramente i valori quindi soprattutto i valori di quest'anno e capire poi questi valori come vanno a impattare su quelle che sono poi le valutazioni che noi facciamo a livello immobiliare quindi quello che probabilmente andremo a vedere questi numeri che vi ho fatto vedere sono relativi al duemila e ventuno perché per realizzare quel duemila e ventidue stiamo aspettando chiaramente la fine la fine dell'anno lascio la parola ad Andrea grazie se se ci eccoci eh grazie Giorgio eh io 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 vi porto dei numeri invece un po' più freschi perché noi abbiamo la fortuna di lavorare sui canali digitali e quindi eh riusciamo ad elaborare una grande quantità di numeri in in realtà e quindi abbiamo dei numeri aggiornati a ieri quindi noi riusciamo a avere numeri ehm numeri aggiornati in compenso eh il nostro contributo il mio contributo a a un'analisi di questo tipo è parziale perché noi ci occupiamo di distribuzione elettronica di camere e anche di strumenti di revenue management e quindi diciamo vediamo in maniera molto completa tutto il mondo della distribuzione elettronica ma anche interessante l'andamento dei numeri di REV perché questo credo che sia l'elemento più impattante in in relazione a a ai valori immobiliari eh vi faccio vedere velocemente perché abbiamo poco tempo un po' come si muove eh il il mondo della distribuzione elettronica da dall'epoca pre pandemia a a a insomma a qualche giorno fa questo è l'andamento a livello su un panel di più di novecento alberghi Italia eh quindi sono quasi dieci milioni di notti transate sulle nostre piattaforme quindi comincia a essere un dato significativo e il mondo delle OTA si è ripreso eh bene eh quest'anno diciamo il primo anno in cui il mondo della distribuzione eh dei grandi player OTA è ripartito forte dato interessante è una crescita molto importante eh con quasi con più del doppio dei volumi del duemiladiciannove dei canali diretti degli alberghi e trainato da eh dai volumi generati dalle campagne sui motori e metamotori perché come voi sapete ma qui ora poi purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire eh l'impatto di Google Travel quindi eh il l'importanza che Google sta dando al settore del travel e soprattutto alberghiero attraverso lo sviluppo di questo meta mega portale Google Travel eh inizia a essere determinante questo è il volume di prenotazioni transate dal comparatore tariffario Google Hotelaz che quindi fa più di cinque volte i volumi del duemiladiciannove quindi veramente crescite straordinarie questo è un po' il quadro del mondo elettronico che ha un impatto marginale relativo su quelli che poi sono il totale dei numeri eh degli alberghi abbiamo fatto un focus sulla Toscana dove abbiamo diviso eh questo è un focus generale sulla Toscana e eh è interessante sempre rispetto al mondo della distribuzione elettronica vedere che a livello di Toscana e quindi un numero di strutture abbastanza grande il qual è la distribuzione della torta del mondo elettronico che oggi comunque a livello eh regionale il canale diretto si avvicina comunque a booking.com che rimane il primo operatore. Nelle città in questo caso abbiamo preso Firenze le OTA sono ancora dominanti ma comunque ripeto la fetta anche del diretto sta crescendo mentre un dato interessante direi quasi sorprendente è eh la capacità di vendita diretta nelle destinazioni eh di campagna e quindi dove anche eh il l'impatto del delle delle attività delle OTA è eh meno aggressivo e quindi già sulla campagna toscana il trentacinque virgola sei per cento dei canali diretti contro il trentasei di booking.com insomma cominciamo a avere una situazione equilibrata e addirittura invece su quello che è la Toscana Mare trainata anche da strutture leisure e eh di fascia comunque medio alta il il canale diretto e questo è eh è è il primo canale di vendita e devo dire che una slide di questo tipo io sono insomma più di vent'anni che lavoro in questo settore no non l'avevo mai visto cioè un non che esistono di un albergo che per caso è riuscito a vendere più di booking.com ma un' intera destinazione dove tutti i nostri clienti di quella di quel territorio hanno come sito ufficiale primo canale di vendita eh questo ma questo cosa c'entra con i valori immobiliari? Beh qualcosa c'entra perché eh la la gestione della distribuzione elettronica e anche i processi di disintermediazione e lo sviluppo di tutta la distribuzione elettronica può avere degli impatti sul Repar veramente importanti e il numerino magico che è il Repar è quello che poi determina la redditività di una società di gestione alberghiera e quindi anche il valore delle mura di dove dove poi quell'albergo esercita l'attività. Abbiamo preso noi abbiamo la fortuna per il tipo di lavoro che facciamo di avere accesso eh né l'erogare i nostri sistemi di eh business intelligence da PMS ai dati dei gestionali quindi logicamente vi facciamo vedere i dati aggregati perché non possiamo certo mostrare i dati dei software gestionali dei nostri clienti abbiamo preso un panel di duecento alberghi eh divisi tra cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e non stelle. I non stelle diciamo del nostro panel sono non stelle di fascia alta, comunque di sono luxury suite o comunque e eh e comunque il secondo me è un dato sorprendente che ha un impatto sui valori immobiliari o i valori o anche i valori ehm attendere che eh gli alberghi eh possono avere in Italia e poi lo vediamo da tutti gli investimenti no? Che è l'interesse che c'è verso il nostro paese abbiamo eh registrato una crescita del REVPAR media su un panel di duecento alberghi del più venticinque per cento rispetto al duemiladiciannove. Ora più venticinque per cento è un numero importante perché eh è un numero che cambia i bilanci che cambia i bilanci degli alberghi. Questo è un medione. Sul mondo, sul segmento cinque stelle, la crescita registrata eh a livello di REVPAR è molto molto più grande quindi chi è riuscito diciamo le strutture di lusso sono riuscite a spingere nel duemilaventidue che è il primo anno post pandemia se così si può chiamare non siamo proprio post però diciamo nel primo anno quasi normale le strutture di lusso sono riuscite a spingere in maniera forte sul REVPAR soprattutto facendo leva sulla distribuzione elettronica crescente e quindi su una flessibilità tariffaria crescente quindi chi ha spinto nella movimentazione tariffaria eh in maniera incisiva è riuscito a portare a casa delle crescite di strutture straordinarie eh su Firenze un'analisi su Firenze eh porta una crescita media su tutto il panel del più venti per cento del più ventitré per cento sulla sulle strutture di campagna e del più cinquantun per cento sulle strutture mare poi è interessante vedere come logicamente Firenze nel duemilaventi duemilaventuno ha avuto un crollo del REVPAR perché questo è è ovvio essendo una città ha sofferto pesantemente la pandemia e eh almeno sul panel dei nostri alberghi duemilaventidue c'è stato un recupero e un superamento del duemiladiciannove la campagna se l'è cavata un po' meglio negli ultimi anni di pandemia e e e quest'anno ha registrato un risultato straordinario il mare invece eh è come se non avesse vissuto eh la la pandemia perché si sono un po' salvati con la stagione estiva duemilaventi e il ventuno è già stato un anno un anno buono con una crescita enorme a livello di REVPAR qui bisogna dire per correttezza che le nostre strutture leisure Toscana mare sono appunto come vedete eh strutture di fascia alta quattro o cinque stelle quindi sono quelle che poi hanno spinto hanno spinto un po' di un po' di più sulle eh sulle tariffe ehm ecco un ultimo dato abbiamo analizzato perché Giorgio eh mi chiedeva nei giorni scorsi ma ma come andrà il duemilaventitré la mia risposta non lo so perché se non non abbiamo non abbiamo questa capacità predittiva eh però eh i sentori al momento sono buoni eh il sempre sul panel di di tutti i nostri alberghi che sono più di novecento abbiamo analizzato il pick up al ventotto di novembre duemilaventuno per prenotazioni con stay duemilaventidue e il pick up al ventotto di novembre ventidue con prenotazioni stay duemilaventitré abbiamo preso questo dato eh l'ordo all'ordo delle cancellazioni perché se lo prendessimo al netto delle cancellazioni i dati non sarebbero logicamente raffrontabili perché abbiamo il duemilaventuno avuto un tempo più lungo per poi poter maturare cancellare le prenotazioni duemilaventidue non ancora quindi abbiamo preso la foto eh all'ordo delle cancellazioni abbiamo una crescita di pick up di più settantacinque per cento di ricavo meglio del quindice quindi di volumi di due volte anche qui non sono eh sempre per estrema eh correttezza e precisione questi sono dati di pick up di distribuzione elettronica in questi mentre i dati di rep sono dati che riguardano il total revenue dell'albergo e quindi il totale dei ricavi questa fotografia di pick up perché è quella che noi abbiamo possibilità di registrare in maniera molto precisa è il mondo elettronico quindi di sicuro il pick up della distribuzione elettronica sta andando molto forte anche per il duemilaventitré e questo direi che è un buon segnale poi come andrà duemilaventitré lo 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 staremo lo staremo a vedere ecco per quello che è la nostra eh la nostra visione nostro punto di vista ci sono ecco un paio di fattori di discontinuità dei fattori di discontinuità che portano anche a degli impatti su eh sulla su sulle performance che gli alberghi possono avere perché questa pandemia ha digitalizzato in maniera veramente imponente importante i comportamenti di tutti gli utenti a livello globale non non per il mondo del travel nel nel nostro settore quindi nel settore turistico alberghiero google travel soprattutto in questi ultimi anni ci ha messo del suo e tutto questo porta a processi di digitalizzazione che eh se cavalcati quindi se gli alberghi negli anni duemilaventitré e anni futuri sapranno sfruttare le opportunità dei mercati digitali potranno migliorare la loro redditività grazie appunto a tariffe sempre più flessibili un mercato sempre più abituato a tariffe flessibili e quindi anche con buone prospettive sia di redditività degli alberghi che sui valori immobiliari grazie grazie mille Andrea se intanto perfetto eh sei stato quasi nei tempi eh qualche spunto veramente molti spunti direi molto interessanti quello che più eh vorrei rimarcare il dato che stavo comparando tra Firenze e il mercato italiano abbastanza in linea venti venticinque per cento invece il mare che veramente ha avuto un incremento molto molto significativo più cinquanta per cento e ovviamente chiedo di eh commentare questi data Elena Daviti che fa sempre molto piacere averla eh con noi Elena io sono sempre un po' in imbarazzo perché non so mai come presentarti a parte che so che Elena Daviti è sufficiente esatto però qualche esperienza allora Elena diciamo che riveste oggi il ruolo di consigliere in Fideuram business advisor investe in Toscani e questo sicuramente è una cosa che è molto interessante per il ragionamento che stiamo facendo esperienze passate come CEO Starotel Una Valtur presidente di AICA adesso anche consigliere di Falchestein e quindi sicuramente tu sei eh in grado proprio dal tuo osservatorio di poter interpretare questi dati e magari calarli anche nella realtà della Toscana e poi ti chiederei magari anche di cominciare a dare anche un po' di oltre che degli elementi diciamo di eh di quantità aggiungere anche degli elementi di di qualità so che tu sei molto eh attenta al tema della sostenibilità quindi magari se cercendi qualcosa. Sì in realtà poi io mi sono preparata su questo compitino qua perché sono una molto diligente quindi vorrei su questo dire due parole. No riguardo ai dati diciamo che mh tutto quello che ha detto mi torna come si dice in Toscana eh rispetto a quello che ascolto dagli operatori con cui sono in contatto la fortuna di avere mantenuto una rete appunto di collegamento importante questo mi dà eh devo dire che rispetto a questa prospettiva positiva di recupero eccetera eh che è veramente forte io insomma un un direttore di Venezia del lusso mi dice ma sai mi rimangono per il giorno dopo o per due giorni dopo quattro cinque camere sparo metto mille cinque duemila cioè salgo vertiginosamente in realtà dopo un paio d'ore sono sparite e ho quasi paura di questa bolla quindi forse l'unico nota che possiamo mettere se si tratta di appunto una bolla o di quanto sia un fenomeno che possa mantenersi nel tempo eh perché è evidente che la spinta data dal ritorno al viaggio e e dalla ehm considerazione di quanto il valore del viaggio sia un'esperienza eh che non si confronta con il possesso io dico oggi personalmente anche no? Quello che vedo come obiettivo è vivere delle cose non possederle non mi interessa e quindi evidentemente questo ha fatto mh lievitare tantissimo recuperare il tempo perduto non so chi è negli hotel ha assolutamente questa credo questa percezione però è anche vero che questa crescita esponenziale che tra l'altro in tema di investimenti Giorgio sa sta facendo spostare tutte le i gruppi piccoli grandi e medi verso il lusso come se ora non esistisse un'altra frontiera in effetti anche questa è una cosa che io metterei sul campo che mi spaventa perché proprio stamattina mh ho letto in un un bollettino che forse molti di voi ricevono insomma dove ci danno queste news che anche il gruppo mh bolognese attivo nell'editoria non faccio nomi eh ha venduto il garden ti ricordi eh che avevamo studiato a suo tempo perché comunque si concentra nel lusso allora io dico ma tutti proprio tutti ho fatto lusso in realtà mi sembra anche eccessivo no perché comunque mh intanto perché io penso che il lusso vero sia solo quello che è corredato non tanto e solo dai servizi ma soprattutto dalle location e dai building perché non si può fare lusso se non si è in determinate situazioni comunque questa è una considerazione in più dicevo però che questi dati spingono tutti gli operatori a considerare le pipeline di sviluppo orientate verso lusso e anche su questo io metto un punto interrogativo forse non è oggi la sede per discuterla Giorgio ma secondo me è un tema che vale la pena mh affrontare eh cercando di andare un attimo sulla eh su questo che ci hai proposto come tema eh cioè l'idea di una piattaforma che sia in grado di guidare gli investimenti io in effetti mi sono fermata a pensarci perché ho detto beh insomma eh è una è una proposta cerchiamo di analizzarla in termini anche metodologici oggi noi ci siamo tutti abituati ad avere una grande disponibilità di dati e soprattutto se questi si trovano su piattaforma abbiamo però delle mh condizioni essenziali che vogliamo vedere rispettate al di là della esperienza di navigazione che poi non è scontata nonostante siamo nel duemilaventidue non so se a voi capita ma io delle volte entro in delle robe in cui poi non ci capisco niente o comunque non è diciamo semplice raggiungere il dato nella sua mh immediatezza però ehm i fattori essenziali quando si parla di dati eh me li sono appunto anche segnati evidentemente che siano sempre dati aggiornati che siano sempre dati eh spendibili veritieri e che siano sempre diciamo appunto facilmente mh fruibili questo sicuramente è avvenuto se parliamo dell'esperienza di viaggiatori ognuno di noi ormai prenota insomma la qualunque cosa ma ma lo dicevamo prima di entrare c'è un confine eh oltre il quale non si va cioè ci sono dei tipi di viaggi e destinazioni e soluzioni che ci richiedono comunque gli human touch cioè occorre comunque un supporto io non ho mai difeso le agenzie di viaggio anzi credo che durante la mia presidenza mi abbiano partinaica mi abbiamo particolarmente odiate ma in effetti io poi riconosco il valore dell'apporto della persona anzi devo dire che proprio eh tanto più il digitale è diventata una commodity tanto più ci siamo abituati tanto più però abbiamo dall'altro lato secondo me bisogno di un human touch di qualità e vedremo in che senso entrando nel mondo appunto del del mondo degli investimenti dell'hotels quei prerequisiti di cui dicevamo prima io mi immagino come se esistesse un booking dove anziché gli alberghi da prenotare ci fossero gli alberghi in vendita no? Ho fatto sto ragionamento allora al di là del fatto che quando parliamo di dati attendibili eh già inizia la tragedia perché eh noi tutti conosciamo relativamente all'Italia qual è quali sono le caratteristiche del patrimonio immobiliare alberghiero italiano già trovare l'albergo il cui numero di camere corrisponda a quello scritto sulla licenza vi posso assicurare che per esperienza iper trentennale e per aver fatto ehm transazioni su hotel acquistati venduti share deal asset deal eh contratti di franchise management eccetera penso che qualcosina ho visto diciamo vi posso assicurare che già quello per dire una allora penso che sia difficile sulla piattaforma far trovare no centododici camere ma cento in licenza già non si potrebbe scrivere ma al di là della battuta dico che evidentemente così come tutto sta andando sul digitale è abbastanza logico pensare no che gli operatori come Giorgio e come altri si debbano avvalere di questo però io ritengo che su questo ci sia proprio ancora un un gap difficile penso ad un'altra cosa nella nella mia esperienza ho incontrato tantissimi developer persone anche di grandissimo profilo e tutte inevitabilmente tutte la prima cosa che mi dicono anche quando parlavamo ma sai mi hanno detto quell'albergo oppure che dici di quell'albergo la prima cosa è vederlo cioè nessuno può immaginare quindi posso avere cognizione delle disponibilità di qualcosa ma certo non posso andare oltre perché recarsi su in un asset vedere micro macro location ehm devo dire anche che per chi ha fatto il mio mestiere c'è una sorta di naso lungo che io che ti guida nel sentire se quel posto può diventare quello che tu eh pensi e e queste sensazioni devono essere immediate io non le non suggerisco che si possano mediare tramite una piattaforma e poi vado alla sostenibilità se vi dai ancora due minuti mh perché evidentemente eh c'è un punto di partenza eh ho ho collaborato di recente con Deloitte ce l'ho qua faccio come quelli che presentano i libri ve lo mostro alla realizzazione di un paper con Aiceo che è l'associazione dei CEO di cui sono stata presidente per due mandati e ora eh seguo il tavolo del turismo eh la collaborazione con Deloitte ha fatto nascere questo report che poi ne ho qualche copia ma chi la vuole mi può scrivere su LinkedIn ehm la mandiamo anche ovviamente via eh via mail dicevo ehm mh questo rapporto mi ha portato a dialogare eh sulla sostenibilità con tanti interlocutori oltre all'indagine fatta sui consumer sono mille duecento travel che hanno raccontato cos'è per loro la sostenibilità nel viaggio quindi molto interessante però qui mi interessa invece quello che mi hanno raccontato eh chi fa il mestiere di Giorgio o eh le la e e quindi collegamento anche con la finanza la sostenibilità dovrà essere uno di quei dati che in una ipotetica piattaforma che che linka tutte le strutture in vendita o disponibili dovrà avere un suo spazio ben definito perché ormai eh la eh sostenibilità è diventata un parametro di valutazione mh in particolare mi è stato appunto riferito da eh chi si occupa di eh advisory in questa in questo campo che i grandi investitori internazionali i fondi eccetera hanno dato delle eh dei target ben precisi per cui l'investimento in determinate percentuali e proporzioni deve essere realizzato su strutture che già hanno eh questi parametri e qui però ritorna il dato dell' attendibilità come valutare sostenibile una struttura siamo di fronte a oggi ancora un po' di confusione perché le metriche e ehm i rating eh si basano sono un po' come dire ancora aleatori abbiamo bisogno quindi di creare mh una univocità di misure di 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 strumenti di misura affinché poi il dato cioè se mettiamo un bollino blu tutti dobbiamo sapere a che cosa fa riferimento quel bollino come sono stati misurati i parametri di quella struttura e quindi diciamo che c'è spazio ma eh tanto ancora lavoro da fare mi piace dire problemi complessi richiedono soluzioni complesse. Grazie mille grazie mille Elena. Ho capito che sono stata lunga. No no guarda siamo perfettamente nei tempi anzi punti anche qua molto interessati quindi la fonte deve essere chiaramente. Posso aggiungere solo una cosa sul tema perché è una novità eh un secondo solo eh Google tra l'altro l'hanno presentato un paio di settimane fa dei manager di Google a Milano in un convegno dove eravamo presenti ha inserito nella scheda dell'hotel in Google Travel il bollino sull'hotel Green no? E questo bollino tra l'altro in Italia non si vede ancora cioè è difficile è rarissimo trovare degli alberghi che hanno già questa certificazione nella scheda Google Travel che per quello che dicevo prima è sempre più importante per gli alberghi però deve essere come giustamente diceva Elena è un bollino che viene dato soltanto se si ha una certificazione ISG rilasciata da uno degli enti riconosciuti da Google quindi questa è una cosa su cui sicuramente cominciare a prestare attenzione. Grazie mille sì effettivamente mi stavo rilasciando anche questo discorso grazie Andrea perché l'altro elemento che è emerso in maniera forte chiaramente adesso passeremo proprio a questo sulla parte del del progetto la progettualità la tangibilità che forse è un aspetto sul quale oggi poi ci troveremo un po' a a così a confrontarci sul discorso metaverso ma soprattutto poi la parte della sostenibilità e qua chiamo in causa Simone Micheli Simone Micheli prende il microfono magari iniziamo a far partire la presentazione Simone tu hai bisogno di movimentare slide o è tutto in automatico? Va tutto in automatico fantastico come nel metaverso fantastico ehm Simone tu sei sei toscano quindi insomma giochi in casa però con te abbiamo fatto tante tante belle cose assieme faremo tante altre belle cose assieme a livello di di progettualità quello che ti chiedo è proprio di portarci perché quello che vuole essere anche un po' il passaggio di questa conferenza è passare dai dati dai trend del mercato passare proprio ai progetti concreti quindi raccontaci un po' quelli che sono i progetti e dove sta andando un po' il mercato? Beh domanda impegnativa eh poi tempo a mia disposizione non non è molto eh fammi d'accensore Giorgio eh quando è arrivato il momento frenami io guardo il il timer bene progetti io sono ascolto sempre con attenzione le dinamiche ehm manageriali e propositive legate a questo mondo l'esperienza che posso portare alla vostra attenzione è questa ehm è tutta la vita che io costruisco ehm progetto e cosa realizzo delle situazioni che hanno dei parametri connessi al mondo dell'arte dell'opera d'arte. Qualche tempo fa eh scrissi un piccolo un piccolo volumetto legato proprio a questo tema hotel come opere d'arte. Questo eh voglio farvi ragionare e riflettere su questo su questo parametro perché in relazione alla valenza di unicità di iconicità di straordinarietà delle strutture siano esse di altissimo profilo quindi Elena prima eh esprimeva un un dubbio parere su tutto questo spostamento verso il mondo del lusso e anche io lo nutro perché ci sono tante categorie possibili legate al mondo del turismo non c'è soltanto il lusso ma creare opere d'arte sostenibili non significa lavorare soltanto nel segmento del lusso. Costruire opere di identità. Qualche tempo fa tutti parlavano di esperienza e si continua a parlare di esperienza però in maniera un po' malevole, poco concreta, poco intelligente perché un'esperienza è fatta da cose memorabili. Ogni tanto faccio un esempio ve lo porto alla ve lo porto alla vostra attenzione. Io anni fa ho curato la il ristorante delle olimpiadi per Mercedes Bresso per la regione Piemonte dove hanno lavorato tutti gli stellati. Eh Mercedes mi mandò a incontrare uno chef uno dei grandi chef italiani che è il più grande di tutti. Ora non passa momenti di felicità ma è veramente un eccellente che si chiama Davide Scabin. Andai a trovarlo perché lui era uno degli chef che avrebbe gestito il mio ristorante per capire cosa aveva in mente di fare. Non mi ricevette, lui mi ricevette l'assistente quindi questo mi dette un po' fastidio perché vai a casa di una persona ti riceve la governante non il proprietario di casa un po' ti dispiace però e andai a questo a questo combo al zero con degli amici. Allora l'assistente mi disse ci volete mangiare cucina tradizionale o sperimentale? Io che sono un sperimentatore cosa avrò detto secondo voi? Sperimentale eh? Ci sono 24 portate mi dice il ragazzo e dico ora ve ne racconto una sola perché sennò prendo troppo troppo tempo. L'ostrica virtuale. Allora io dissi all'assistente dico io sono allergico ai crostacei non posso mangiare le ostriche. Architetto mi guardò come veramente uno zingaro. Architetto le parlo di virtualità non di realtà. Dico sai io vivo a Firenze una città piccola con le strade piccole tutto è piccolo siamo legati al passato non al futuro queste cose così grandi le capisco poco. Ci mettiamo a scherzare. Arrivò il l'ostrica virtuale vi sintetizzo piatto di ceramica un tassello di anguria sopra un piccolo eh un alice o qualcosa del genere la magia dello chef l'assistente disse ora chiudete gli occhi portata le labbra questa sostanza che non è un'ostrica cominciate a degustarla e scoppierà nel vostro palato il gusto di un'ostrica straordinaria. Quando racconto questa storia mi viene sempre la pelle d'oca perché questa esperienza che io ho vissuto è diventata memoria attiva per me ma memoria reale e concreta e oggi la racconto a voi come a volte faccio con i miei allievi all'università ma questa esperienza è forte avessi mangiato uno spaghetto al pomodoro una pizza margherita questa esperienza non sarebbe rimasta nella mia mente. Cosa voglio dirvi con questo esempio che è molto chiaro ancora qualche minuto no? Molto chiaro e semplice se gli alberghi perché parliamo di questo non di ottiche virtuali ma il parametro è il medesimo fossero costruiti io faccio questo di mestiere però se ci fosse questa attenzione nel definire spazi capaci di diventare memoria attiva gli incassi per chi fa alberghi ora più che mai sarebbero sei volte superiori ve lo garantisco se fate un revenue date un'occhiata se io non voglio far promozione diretta alle strutture che ho progettato ma se date un'occhiata ai numeri prima parlavamo di numeri degli alberghi che io ho disegnato rispetto ai competitor di zona fatturano il doppio perché sono opere d'arte sostenibili quando parlo di sostenibilità io vi parlo di sostenibilità in termini di eco compatibilità ma non solo sostenibilità di campo quando si realizza un albergo deve essere realizzato pensando di spendere il meno possibile per ottenere il massimo l'intelligenza vedete questa immagine di una cosa che non c'è più è una una piscina che io ho fatto nell'hotel che era a in corso Matteotti a Milano fatta con tre soldi delle degli elementi in plastica cubicata delle tessere di ceramica all'interno della piscina una pietra di Verona che costa 30 euro al metro quadrato ma quello quella piscina non è una piscina è un sogno quindi il costo di impianto molto basso attraverso idea intelligenza attenzione all'utilizzo di materiali sostenibili dal punto di vista economico nasce un'opera d'arte quindi mi sto sono arrivato alla conclusione vi dico riflettete su questo fatto e fare un albergo oggi un albergo vincente capace di di combattere nel mercato di ritagliarsi degli spazi simbolici in termini economici è un albergo dove non ci sono solo comodini letti e materassi e armadi è un altro film un altro pensiero ci stiamo avvicinando a passo svelto nel metaverso io credo di essere uno dei primi architetti al mondo che sta progettando un museo nel metaverso e per me sembrava un gioco e invece è una realtà quindi anche la dinamica alberghiera ma farà parte di un'altra disquisizione di un altro racconto cambierà le proprie prospettive intanto per gli spazi reali tenete a mente questo consiglio pensiero dell'architetto micheli costruite spazi di grande identità sostenibili che siano fuori dagli schemi e dalla tradizione cosa che le catene alberghiere ancora non hanno capito che sono lontane da questi parametri anni luce grazie grazie simone ti chiedo sicuramente è passata sicuramente l'applauso hai passato una bella palla a Valeriano Antonioli oltre che al microfono sentato che che inizia la presentazione ne approfitto per presentare Valeriano Valeriano e CEO di Lungarno Tels del gruppo della famiglia Ferragamo che poi ci racconterai un po' della insomma della storia di della vostra partenza da da Firenze per poi muovere i vari passi insomma un po' fuori Firenze nella Campania poi andare in altre città e poi arrivare ce l'ho io te lo passo io arrivare oggi a presentare credo siamo in anteprima vero Valeriano? Quasi 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 in anteprima con il progetto quello di Milano a te la parola. Buongiorno a tutti e grazie per l'onore di essere qua con voi grazie per le cose che avesse avete condiviso ho preso tanti appunti allora noi siamo un piccolo gruppo alberghiero toscano il nome è Lungarno Collection eh si tratta degli alberghi della famiglia di Salvatore Ferragamo il gruppo è nato venti anni fa e all'inizio si trattava di un'opportunità di ristrutturazione di vecchi alberghi esistenti che sono poi stati trasformati in bellissimi alberghi l'hotel Lungarno ventidue anni fa quando fu ristrutturato da noi per la prima volta divenne il primo albergo collegato col fashion nel mondo e tanti lo chiamarono il Ferragamo hotel anche se non lo era. Comunque partendo dal nostro heritage che è fiorentino io sono valtrinese sono di Bormio però rappresento anche l'heritage fiorentino e l'artigianalità fiorentino ristrutturando quegli alberghi nacque la Lungarno Collection. Si trattava però di alberghi magari percepiti ad alto livello ma tutti a quattro stelle per cui dieci anni fa ci siamo chiesti come poter far crescere il nostro brand alberghiero toscano in Italia e magari anche in Europa e abbiamo creato il nostro piano. Il piano era quello di ristrutturare gli alberghi che ne avevamo bisogno posizionandoli nel mondo dell'alta gamma. L'esempio l'hotel Lungarno che fino al duemiladiciassette produceva un prezzo medio di trecento euro. Quest'anno chiuderemo con quasi ottocentocinquanta euro dei DR per cui ha fatto una trasformazione incredibile. l'altro l'altra decisione che prendemmo fu quella invece di creare un brand trasferibile facilmente comunicabile e così nacque il portrait che il nome è pronunciabile in tutte le lingue europee credo e significa ritratto per cui per noi il nostro goal che ci siamo dati era quello di creare il ritratto del cliente capire da dove arrivasse capire cosa voleva fare nelle nostre città e creare noi il ritratto della città mettendo assieme il ritratto della città e il ritratto del cliente. Questo è stato il leitmotiv che ci ha condotto negli ultimi anni dove abbiamo creato prima il portrait Roma eccolo qua va tornando indietro il portrait Roma il portrait Roma oggi performa in una maniera dove nel comp set di riferimento è al secondo posto nella città di Roma con tanti bellissimi alberghi e ne arriveranno ancora tanti e ha ottenuto riconoscimenti importanti tra cui anche il 5 stelle Forbes si tratta di un albergo di quattordici camere. Il portrait Firenze anche lui ha ottenuto grandi riconoscimenti come rank nel comp set a Firenze è al secondo posto. Vi dico questo perché? Perché quando abbiamo creato il concept del portrait avevamo anche ben chiaro quali fossero i target economici di posizionamento. Volevamo e vogliamo che tutti i nostri portrait siano tre best performer come RGI per cui è un index che misura il refpar di cui abbiamo parlato prima e nei tre best performer come qualità percepita dal cliente e tutto questo questi due goal hanno movimentato tutto quello che abbiamo fatto. Cosa vuol dire portrait? Il portrait è dove il ritratto del cliente incontra il ritratto dell'ospite e e questa è una combinazione di tante cose come diceva Elena nel mondo dell'alta gamma la location è importante. Tu devi poter uscire dall'albergo e a piedi raggiungere tutte le attrazioni che tu vuoi vedere o i ristoranti che tu vuoi frequentare. Se devi usare le scarpe di ginnastica non sei nella location giusta. Lo dico come barzelletta perché rappresenta una casa di scarpe. Il portrait vuol dire personalizzazione. Abbiamo azzerato completamente la gerarchia alberghiera. Se voi entrate in un portrait non riconoscerete il direttore. Chiunque parlerà con voi potrebbe essere il direttore. Sono tutti vestiti in maniera uguale e hanno tutti una conoscenza adeguata per poter parlare con te nella tua lingua di provenienza, conoscere la tua cultura e sapere perché sei lì. E questo ha creato quella personalizzazione che ha permesso negli anni il piccolo portrait di Roma di passare da un prezzo medio di quattrocento a mille due e la gente ci scrive ancora dicendo non dite a nessuno, non raccontate a nessuno di questo piccolo gioiellino. Noi ne parliamo però loro dicono questo. E l'altro punto che avete toccato anche voi era quello dell'algoritmo di ovvero che nella distribuzione di oggi noi parliamo con l'algoritmo, cerchiamo di influenzare l'algoritmo per far sì che i nostri alberghi vengano posizionati in alto, in Google, su Blast Nest o wherever. Però nonostante questa tecnologia che abbiamo alle spalle, il principio principale nostro è quello che vogliamo essere humans, per cui lo human touch è molto importante. Nella selezione e formazione del personale facciamo di tutto per trovare le persone giuste e dargli una formazione che dura tre anni che li porta a diventare portrait. La formazione non è solamente una cosa teorica. Noi mandiamo tutto il personale front of the house nei vari ristoranti, li facciamo frequentare i tours, le excursions, li mandiamo in giro per la città affinché diventano esperti e conoscono i migliori ristoranti della città, conoscono il metro D, conoscono quale sia il tavolo migliore, in modo che quando parlano con i clienti, con gli ospiti, sanno indicare veramente quel tavolo, quella pietanza, perché l'hanno provata due mesi prima. E tutto questo processo crea quella personalizzazione che il cliente alla fine apprezza e ci permette di raggiungere dei prezzi medi veramente strabilianti. Questo è un po' il concept portrait in breve, ho sette minuti e mancano cinque secondi. L'ultimo progetto è il Portrait Milano che è nato quattro giorni fa, siamo ancora in soft opening, se i miei capelli sono scomposti è perché arrivo da Milano e tutti i progetti nuovi dal di fuori sembra tutto fantastico, ma dal di dentro stiamo ancora combattendo tutte le battaglie che devi combattere per sistemare i piccoli problemini di un piccolo bambino che impara a camminare. Questo non è solo un albergo di 73 camere con più di 20 suites nel quadrilatero di Milano, ma questo è un progetto veramente diverso dove per sintetizzarlo stiamo creando la piazza del quadrilatero di Milano e normalmente per creare una piazza devi lavorare presso l'urbanistica del tuo comune e se anche tu fossi l'urbanista del comune di Milano, creare una piazza nel quadrilatero di Milano diventa difficile perché di spazi non ce ne sono. Invece questo seminario, ex seminario di 500 anni fa ha uno spazio interno, una corte di 2500 metri quadrati che d'ora in avanti si chiamerà Piazza del Quadrilatero che metterà in collegamento Corso Venezia e via Sant'Andrea. Per cui non è solo una piazza e anche una via di passaggio. Abbiamo abbracciato l'inclusivity e non l'esclusivity per cui vogliamo essere come il salone del mobile piuttosto che un fashion show che è molto esclusivo e deve avere il biglietto per entrare. Per cui anche questo ci ha animato, ci ha costretto a riflettere anche sui vari concept e sui pilastri del portrait allargando l'inclusività anche gli architetti. Abbiamo avuto sei architetti che hanno lavorato a questo progetto, non solamente i nostri soliti architetti affezionati ma anche altri. Abbiamo avuto tanti protagonisti della città di Milano che ci stanno aiutando a posizionare questo albergo come una piazza e una destinazione. Perché vi racconto questo? Perché tornando all'origine noi siamo un gruppo alberghiero fiorentino per cui stiamo ci stiamo impegnando per portare l'artigianalità fiorentina e qua dentro ci sono tantissimi dettagli made in Florence fatti da artigiani fiorentini per portare questo brand ancora di più in Italia e magari anche in Europa. Per cui nel nostro processo di crescita vorremmo che un giorno il portrait sia anche a Venezia, magari a Londra, magari a Parigi, chissà dove, però ci stiamo impegnando per portare questo brand fiorentino e toscano un po' in tutta Europa. Questa è l'ambizione. Grazie mille, grazie Valeriano, so che insomma sono giorni molto concitati quindi per la tua presenza ci fa molto piacere soprattutto per aver condiviso in anteprima finalmente queste queste immagini. Ovviamente verremo tutti a trovarti immagino. Quindi diciamo allarghiamo l'invito a tutti. Passiamo adesso invece siamo diciamo in conclusione e qua coinvolgo già Luca Giglio perché quando ci hanno chiamato per fare questa conferenza il tema era quello del metaverso ho pensato ma chi mi può raccontare del metaverso e a un certo punto mi è venuto in mente già Luca Giglio che con tutte le sue esperienze con gli alberchi che segue con la sua società di gestione in white label sicuramente dico gli sarà capitato di fare qualcosa col metaverso intanto che magari facciamo partire anche la presentazione che insomma vedere un po' le realtà che voi eh diciamo gestite per diversi diversi proprietari quindi anche con delle logiche diverse mi piacerebbe che già Luca magari partendo un po' da queste da questi progetti ci raccontasse anche un po' questa così esperienza che in qualche modo vi siete imbattuti voi sul discorso legato al metaverso qualche minuto e poi purtroppo dobbiamo chiudere assolutamente buon buon pomeriggio a tutti in realtà avevo preparato molto poco perché conoscendo l'innata eh sintesi di Andrea Delfini ci saranno due secondi e venti più o meno è stato così quindi vi ringrazio vi 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 ringrazio è molto interessante perché avevo preparato un po' di appunti perché il metaverso poi boh eh che cos'è eh un altro second life qualcuno che magari un po' più di anni se lo ricorda eh come possiamo portare quello che diceva Valeriano human touch l'esperienza la memoria attiva ehm il lusso che è diventato ormai soggettivo scusatemi soggettivo e non più oggettivo perché il lusso oggigiorno a Sorrento ci sono stati tre stelle che hanno fatto trecento da notte trecentocinquanta da notte quindi quando una volta il lusso era anche definito dal prezzo in questo momento è scompasso anche questo cioè almeno in questa diciamo bolla che noi stiamo vivendo quindi il metaverso è difficile perché come possiamo portare un prodotto quello alberghiero intangibile cioè finché il cliente non arriva in albergo non è un prodotto tangibile è un prodotto intangibile quindi raccontare la nostra storia la nostra esperienza quello che il cliente troverà una volta arrivato eh su un mondo virtuale che è il metaverso che 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 diciamo è un merge di realtà virtuale realtà aumentata ehm eh intelligenza artificiale perché c'è anche tanto quello poi ci sarà la criptovaluta c'è un mondo molto particolare molto complesso tu hai detto bene noi nella nella con eh B ventuno Bari un lifestyle hotel in apertura l'anno prossimo a Bari zona San Francesco eh Fira del Levante per 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 essere precisi cinquantaquattro camere avevamo approcciato quest'idea di preparare il eh di preparare l'albergo e cominciare a fare uno showcase direttamente sul metaverso quindi abbiamo lavorato sei mesi con alcune aziende leader in Italia su questo mondo e non solo in Italia poi a un certo punto abbiamo alzato un po' le mani perché non rendeva al momento al momento io dico poi sicuramente fa qualche anno sarà diverso non rendeva quello che noi volevamo cioè rendere quanto più possibile questo prodotto tangibile cioè qualcosa che poteva quasi toccare il il cliente che che entrava nel nostro hotel nella nostra land e via dicendo quindi abbiamo abbandonato questo progetto per il momento però noi siamo convinti io sono convinto e sicuro che il metaverso non è un'altra piattaforma futuristica che forse rimarrà ci sarà no no secondo me è proprio il futuro e sarà sarà nei prossimi anni un altro canale di vendita per noi importante sicuramente secondo me coinciderà quando l'intelligenza artificiale quindi quando il l'assistente virtuale no il nostro consierge all'interno del metaverso avrà fatto passi un po' più avanti quando realmente potremo dare delle risposte senza human touch sul metaverso e poi darle in persona quando il cliente arriverà 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 da noi poi eh io ho apprezzato molto quello che si diceva l'esperienza con mi fa piacere condividere con tutti questo panel oggi ma con Andrea in particolare moda perché con Andrea nel duemila e undici abbiamo cominciato a parlare di esperienze e fondammo Nero Terzi insieme dove noi ci basavamo non sulle stelle non sui ma sull'esperienza quindi andavamo dalla dal vecchio palazzo eh aristocratico del mille quattrocento a Pisa vicino Pisa a la villa di Positano che era diventata albergo negli anni quindi si parlava di esperienze importanti reali e e che quindi poi lì nacque il progetto Nero Terzi quindi poi sul nostro suo ENG hospitality e chiudo noi affianchiamo come dicevi eh albergatori indipendenti abbiamo la fortuna ogni giorno di confrontarci con imprenditori che non fanno questo di mestiere hanno diversificato noi andiamo dal calciatore di serie A che ogni giorno è una partita da vincere al la persona che all'imprenditore che ha diversificato e quindi abbiamo degli alberghi fantastici unici nel loro stile andiamo da Piazza Roma a Milano a Palazzo di Petta Roma in apertura adesso a a dicembre duemila e venti a ventidue Bari in apertura nel duemila e ventitré quindi la risposta mia a alla tua domanda il metaverso beh il metaverso in questo momento per noi non è ancora un percorso che faremo lo faremo sicuramente nei prossimi anni sono stato brevissimo grazie. Grazie mille Gianluca e grazie a tutti invito a fare un applauso voglio approfittare per ringraziare voi ringraziare Paolo Bertagni con il quale stiamo portando avanti questo progetto di ospitali project investment mi spiace io ogni volta che faccio una conferenza dico sempre teniamo cinque minuti per le domande non ce la faccio mai sarà per la prossima volta grazie buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti